Due romeni diciottenni senza fissa dimora si erano specializzati nella zona di Vittoria come veri e propri ladri di biciclette. La loro speciale tecnica consisteva nell'addocchiare biciclette custodite all'interno dei cortili delle abitazioni, dove precedentemente avevano già effettuato sopralluoghi constatando la presenza dell'area furtiva e stabilendo il modo in cui dovevano operare. Poi approfittando delle ore notturne e dell'assenza di persone in giro, uno scavalcava la recinzione prendendo la bicicletta e porgeva l'altro, che faceva da palo e lo aiutava a metterla su strada e poi si davano alla fuga. La polizia di Vittoria ha ricevuto due denunce di cittadini che avevano subito lo stesso furto con le stesse modalità. In entrambi i casi gli agenti sono riusciti a recuperare delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Dall'attento esame dei fotogrammi sono riusciti a riconoscere senza ombra di dubbio i due malviventi. Non è stato possibile recuperare l'ulteriore area furtiva poiché, come ammesso dai rumeni stessi, avevano venduto sempre le biciclette ad un tunisino che gliele pagava 20 euro ciascuna.